Ciao Giancarlo. Ciao. Io quando ho scelto questo posto, perché ce n'erano vari papabili, sono rimasto colpito da questo luogo perché in qualche modo per quel poco che ti conosco mi ricordava te. Cercare di non farsi imitare, cioè dare agli studenti, adesso parliamo della scuola, dare agli studenti più mezzi possibile perché possano sviluppare qualcosa senza dargli risoluzioni. Insomma c'è sempre qualcuno che cerca di teorizzare tutto, anche quello che non è possibile teorizzare. C'era un piano. Ehi voce. Ehi voce. Sì, sì, sì. Sì, sì.